C'è da dire che secondo una qual certa tesi sia stato il cristianesimo in certo qual modo a far collassare l'impero romano. In verità il cristianesimo è fondamentalmente un effetto relegato naturalmente già alla crisi in fin dei conti che l'impero romano vedeva strutturarsi per diversi motivi che riguardarono motivi di stampo sia istituzionale ma anche di stampo religioso e filosofico politico. D'altro canto anche la questione che l'impero era davvero enorme infatti aveva diverse popolazioni al suo interno partendo in questo caso dalla concezione di stampo naturalmente militare. C'è da dire che in fin dei conti la questione militare vedeva ora a partire per esempio dal terzo secolo dopo Cristo la questione naturalmente dei tentativi da parte dei barbari nel entrare ovviamente all'interno dei confini romani. In particolar modo sappiamo perfettamente come nel lato orientale si fossero dal terzo secolo dopo Cristo scusate ora presi una certa posizione avevano costituito un certo tipo di realtà culturale importante i sassanidi che in realtà esemplificarono la fede in Zoroastro e i costori erano in Persia e davano diversi problemi nelle parti orientali dei confini dell'impero romano. D'altro canto c'era anche il problema ovviamente dei goti nella parte occidentale che in particolar modo sui confini del Danubio tendevano a sviluppare determinati tipi di tentativi di entrare nei confini dell'impero. Ovviamente poi c'era anche tutta la questione istituzionale oltre ai tentativi in questo caso dei barbari di entrare all'interno dell'impero perché in questo caso l'impero nel terzo secolo dopo Cristo l'impero romano non era un impero in fin dei conti unitario. Cioè cosa significa questo? Significa che c'erano all'interno tante culture e in certo qual modo anche la questione dell'imperatore in relazione al suo potere stava perdendo un po' piede, abbastanza piede. D'altro canto c'erano poi diversi generali o comunque soldati che si svilupparono in una questione di anche usurpazione dei territori tale per cui diversi territori spesso non rispondevano più alle questioni imperiali e non c'era più così tanto collegamento alla questione dell'impero. Oltretutto c'è probabilmente anche un distingo da fare tra la parte orientale e la parte occidentale dell'impero romano fondamentalmente perché la parte orientale vedeva in fin dei conti uno sviluppo più di stampo ellenico filosofico tendente d'altro canto anche a svilupparsi all'interno della qual certa lingua greca dove esisteva un qual certo tipo di connessione religiosa in relazione quindi ai tempi antichi per esempio di Alessandro Magno riguardanti l'ellenismo dove il senso sacrale se possiamo dire anche di deificazione in certo qual modo della figura del potere e un certo tipo anche di filosofia che si era collegata a questo tipo di concezione si stava mantenendo di più mentre nella parte occidentale ovviamente c'era sempre questo tipo di attenzione nel porre attenzione in questo caso al fatto che l'imperatore venisse deificato e c'era un qual certo tipo anche di opposizione da un punto di vista ideologico a tentare o comunque a sviluppare un certo tipo di propaganda nel tentare in particolar modo quindi a Roma ovviamente nella parte occidentale nel tentare di esemplificare l'imperatore come appunto colui che potesse essere deificato oltretutto naturalmente si sviluppò un certo tipo all'interno di queste concezioni di simbolismo che riguardò praticamente più o meno tutto l'impero in relazione anche ovviamente a determinati tipi di ideologie di stampo religioso più svariate in questo caso è interessante notare che fu un periodo anche in certo qual modo di decadenza vuoi in questo caso perché le regole dell'impero non furono più tanto seguite da un punto di vista generico vuoi perché le diverse realtà culturali erano distinte vuoi anche perché i barbari tentavano di sviluppare appunto tentativi di entrare nell'impero d'altro canto anche il diritto stava avendo un certo tipo di discontinuità rispetto al periodo precedente infatti soprattutto a partire dal terzo secolo dopo Cristo ma già questo si sviluppò a partire dalla fine del secondo secolo dopo Cristo la questione del diritto consuetudinario romano cominciò a entrare in crisi sempre più in forte crisi dove il diritto da questo punto di vista soprattutto da un punto di vista della questione della giurisprudenza non fu più tanto quel diritto consuetudinario romano legato allo ius degli atti e del tempo in relazione anche naturalmente ai casi ma fu più un diritto ora di stampo selezionato questo cos'è che significa? che il diritto romano naturalmente stava collassando perché in realtà non si fondava più sulla questione della giurisprudenza dei casi e della consuetudine bensì soltanto della selezione è interessante notare infatti che in realtà fu propriamente il periodo in questo caso della fine del secondo secolo dopo Cristo e dell'inizio del terzo secolo dopo Cristo assegnare il presupposto che poi si compirà col corpus iuris civilis quando naturalmente siamo ormai in questo caso già dopo il decadimento dell'impero romano d'Occidente e naturalmente la costituzione da parte di Giustiniano di questo corpus del VI secolo dopo Cristo è interessante notare quindi che già in questo periodo storico cioè già in questo caso dalla fine del secondo secolo dopo Cristo e dall'inizio del terzo secolo dopo Cristo ma in certo qual modo nel terzo secolo dopo Cristo ci sono dei segnali che mostrano in certo qual modo come l'impero sia sempre più burocratizzato e d'altro canto anche il ruolo dell'imperatore sia in certo qual modo sempre più limitato in relazione però al grande impero che si stava costituendo con d'altro canto sempre più costituzione di stampo militare che in certo qual modo limitavano un certo tipo di concentrazione di potere imperiale e d'altro canto con i canoni del diritto che si stavano sempre più degradando è interessante notare quindi che ci fu una religione in questo periodo storico che stava prendendo un certo tipo di piede perché da un lato c'era un certo tipo in questa religione di esemplificazione di un certo tipo di salvezza che riguardava l'eternità e d'altro canto anche un certo tipo di modalità di essere uguali di fronte agli altri tale per cui appunto non ci fosse una vera distinzione da un punto di vista sacrale ma ci fosse un certo tipo di univocità è interessante notare infatti che questa religione era il cristianesimo ora noi dobbiamo pensare che in questo periodo storico il III secolo d.C. vedeva naturalmente anche all'interno dello stesso impero romano ancora tanti livelli di paganesimo d'altro canto però questi livelli di paganesimo erano tra loro non effettivamente equilibrati ma appunto a diversi dislivelli e in un periodo storico di decadimento culturale anche di decadimento economico con un certo tipo anche di difficoltà economica che si stava poi sviluppando e anche un decadimento giuridico è interessante notare che una nuova fede che naturalmente propagandava in certo qual modo esemplificava anche un certo tipo di messaggio tale per cui quello era il messaggio di Pietro inteso come appunto quel messaggio che esemplificasse naturalmente un certo tipo di esigenza di trasmettere il messaggio di Cristo è interessante notare si sviluppò in questo periodo storico come messaggio di salvezza che dovesse poi concernere un unico tipo di stato o un certo tipo di realtà politica univoca però relegata alla salvezza totale partendo dall'affondamento dell'anima e da questo punto di vista della salvezza universale da parte di tutti questo è molto interessante perché in realtà i cristiani si furono in questo caso perseguitati in particolar modo da colui che tentò di sviluppare un certo tipo di riforma ovviamente all'impero che si stava venendo a costituire in questo caso sto parlando ovviamente di Diocleziano perché naturalmente Diocleziano cercò in certo qual modo riuscì appunto a sviluppare un certo tipo anche di risoluzione della crisi dell'impero partendo dal tentativo allo stesso Diocleziano ovviamente di tentare di ricostituire una centralità nell'imperatore ma d'altro canto anche di ridare diciamo calibro e importanza alla moneta questo riuscì a abbassare un po' meno per quanto invece riguarda l'autorità imperiale Diocleziano dovette naturalmente opporsi ai cristiani perché i cristiani trasmettevano un altro messaggio cioè in un periodo storico di grande crisi arrivò Diocleziano che tentò di fare un certo tipo di riforme per rimettere l'imperatore al centro con un certo tipo anche di economia della moneta tuttavia il problema era naturalmente quel problema che riguardava in questo caso anche il decadimento culturale che poi si stava trasmettendo anche un certo tipo di nuova fede o nuova modalità di fede che naturalmente poi prevedeva la salvezza universale è ovvio che Diocleziano in questo caso non aveva intenzione di in certo qual modo sottomettersi alla concezione cristiana della cosa soprattutto perché la centralità dell'imperatore prevedeva in questo caso un certo tipo di vicina deificazione all'impero all'imperatore o comunque un tentativo di creare un ruolo di semidio all'interno dell'imperatore nella sua figura chiaro è che quindi i cristiani che esemplificarono un altro tipo di messaggio perché svilupparono un messaggio naturalmente di distinzione tra il mondo sensibile cioè la realtà pratica e d'altro canto il mondo intellegibile esemplificarono che tutti siamo creati da Dio e quindi siamo tutti uguali questo non poteva piacere a Diocleziano che aveva un altro tipo di politica per riassemblare da un punto di vista di equilibrio l'impero anche da un punto di vista istituzionale e burocratico e quindi ci fu il fatto che costui perseguitori cristiani in questo caso è interessante notare tuttavia che la concezione cristiana da un punto di vista filosofico non è che fosse del tutto contrapposta allo sviluppo storico dell'impero romano nella misura in cui ci fu l'ellenismo perché sappiamo ovviamente che la questione dell'ellenismo anche se cercò in certo qual modo di deificare più a oriente naturalmente il senso ovviamente dell'impero c'è però l'altro presupposto che è puramente di stampo filosofico giuridico cioè l'idea che naturalmente da un lato vige la filosofia della polis che in realtà si è trasmessa partendo poi dal modello ellenistico che era ancora proprio in realtà delle terre di Grecia e di Turchia per esempio dare per cui da quel periodo che era in realtà il periodo antecedente all'impero romano ma da quella tradizione nasceva la considerazione di stampo monoteistico e infatti non è un caso che in questo caso la filosofia neoplatonica come quella di Plotino d'altro canto o in certo qual modo anche la filosofia aristotelica sviluppata in quel periodo storico quindi appunto in quel periodo dell'impero romano vide un certo tipo di presupposto appunto che voleva riprendere e Platone Aristotele in certo qual modo la filosofia antica greca per proporre un messaggio che potesse essere di stampo originale questo d'altro canto era il messaggio cristiano in questo caso i cristiani volevano esemplificare un certo tipo di tradizionalismo in modo da connettersi a una continuatività che poi era in certo qual modo quella ellenistica attenzione non era quella alessandrino ellenistica tale per cui in realtà Alessandro Magno per esempio voleva esemplificare di essere figlio di Zeus come d'altro canto lo stesso diocleziano voleva riproporre da un punto di vista però più occidentale ma collegandosi al senso ellenistico per appunto deificare se stesso e in certo qual modo la figura imperiale per mandare avanti e reintegrare la concezione dell'impero proprio da un punto di vista istituzionale tuttavia i cristiani avevano giocoforza questo ben intendimento e buon intendimento della cultura che in realtà era propriamente una cultura anche di stampo in certo qual modo romano considerando che i romani avevano in certo qual modo sia in modo pagano ma ovviamente in un modo tradizionalmente filosofico riconsiderato i greci come Platone e Aristotele già lo stesso Cicerone a partire dal primo secolo avanti Cristo lo aveva fatto anche Seneca nel primo secolo dopo Cristo lo aveva fatto quindi in realtà il presupposto cristiano che vuole reinterpretare Platone e Aristotele nel modo cristiano di intendere la filosofia è in certo modo anche un modo tradizionalista nel senso che altri greci scusate altri romani però attenzione in un modo ovviamente in questo caso specificatamente pagano l'avevano attuato quindi dei cristiani che stavano all'interno dell'impero romano e svilupparono un certo tipo di coerenza di stampo platonico aristotelico non era in contraddizione in questo caso con il tentativo già romano di applicare un certo tipo di coerenza per un messaggio ovviamente quel messaggio però era per i romani in questo caso per i romani più antichi quello relegato ovviamente a una struttura che potesse essere da un certo punto di vista pensata per la repubblica e per l'impero i cristiani invece la pensarono più spiccatamente per la loro fede per la loro religione che poi era quella della salvezza universale che in realtà batteva attraverso questo messaggio la concezione in questo caso dell'impero e dell'imperatore che dovesse essere verificato da questo punto di vista è interessante notare che fin dall'inizio poi Diocleziano con le sue riforme aveva il presupposto di dividere l'impero in due parti tale per cui in realtà la sua riforma tra l'altro fu quella di dividere l'impero con un imperatore nella parte occidentale e un imperatore nella parte orientale gioco forza naturalmente la questione non si mantiene nel tempo perché ci fu anche una vera e propria guerra civile nel periodo appunto di questa riforma nel senso che poi si costituirono due imperatori nella parte occidentale e due imperatori nella parte orientale con un protagonista importante per quanto riguarda la parte ovviamente occidentale ma che poi sarà il vero imperatore univoco per entrambe il progetto di Diocleziano non proseguirà che sarà Costantino ecco Costantino e con Costantino in realtà il modello cristiano prenderà un certo tipo di posizione all'interno di un certo tipo di concezione di un nuovo stato che in realtà è fondamentalmente relegato a un certo tipo di sentire cristiano in relazione a una crisi dell'impero che stava avvenendo e si stava sentendo e Costantino in certo qual modo poi con naturalmente il suo avvento e in certo qual modo anche un certo tipo poi di presa di posizione di potere farà in modo che i cristiani possano in certo qual modo professare ed esplicare e trasmettere la loro fede all'interno ovviamente dell'impero romano questo è un punto importante perché in realtà probabilmente con Costantino il cristianesimo comincia in certo qual modo a divenire una religione accettata nell'impero ed anzi in realtà a partire fondamentalmente poi anche dal 330 d.C. Costantino fonderà Costantinopoli con un certo tipo di nuovo nome sappiamo che in realtà questa città era già stata fondata fondamentalmente nel VII secolo a.C. dai coloni della città di Megara della Grecia ma Costantino ora in quelle terre rifonda questa città dandole l'ome di Costantinopoli e definendola in certo qual modo come capitale dell'impero romano d'Oriente tale per cui ora esiste un certo tipo di distinguo si potrebbe dire all'interno di uno stesso impero dove Costantinopoli è la nuova Roma ma all'interno di un modello che poi deve essere uno stato cristiano partendo dal fondamento di Costantino in certo qual modo Costantino comprendendo anche le ragioni cristiane avvicinandosi ad esse stava comprendendo in certo qual modo che pure i tempi stavano mutando considerando che in certo qual modo il messaggio cristiano non era poi quel messaggio che si vide nel periodo precedente infatti i cristiani non avevano soltanto una modalità di trasmissione culturale loro volevano probabilmente esemplificare e trasmettere quella cultura intesa come la cultura del cristianesimo per in certo qual modo pensando che gli uomini potessero essere tutti parti integranti di una certa realtà politica intesa come in certo qual modo pratica e prodotto dell'eternità che era fondamentalmente Dio questo è interessante perché il messaggio fu totalmente innovativo cioè è proprio da questo periodo storico che il messaggio innovativo del cristiano comincia a svilupparsi come non già essere relegati a un certo tipo di semidio che ci governa anche se sappiamo che è perfettamente un uomo come potevano essere Ottaviano e gli altri imperatori ma in realtà esiste un certo tipo ora di città di terra divisa dalla città di Dio che tuttavia si rispecchia nella modalità in cui Dio ha il suo sentire questo è molto importante perché è propriamente dal per esempio questo periodo storico cioè dal inizio del quarto secolo dopo Cristo cioè in pratica dalla fondazione di Costantinopoli e in fin dei conti da Costantino in poi che nascerà un nuovo modo di intendere in certo qual modo la cittadinanza o la questione dell'appartenenza a un impero in questo caso all'impero romano gioco forza bisognava quindi ora capire anche la modalità cristiana della cosa e in certo qual modo si svilupperà quindi un certo tipo anche si potrebbe dire di nuova secolarizzazione relegata ora a un certo tipo di connessione con la questione ovviamente di dogmi nuovi intesi come anche collegamento al dogma cristiano ma intesi come anche modalità di diritto che si vedono in una religione che vede gli uomini tutti uguali tra loro e non già un uomo più superiore dagli altri in natura questo è un altro presupposto importante perché attenzione la questione pagana aveva sempre visto il diritto delle genti come modalità di individui tra loro separati come anche in certo qual modo degnità partendo dalla natura gli antichi greci si fondavano su quello con la questione di costantino e con l'accettazione di costantino che era l'imperatore di roma nei confronti dei cristiani ecco la questione cambia radicalmente perché se è così cioè se il cristianesimo poi diventa la religione ufficiale dell'impero romano ecco che allora gli uomini sono tutti uguali ecco che allora nessun uomo è dio ecco che allora gli uomini sono creati da dio come tutto il creato ed ecco che allora in certo qual modo lo sviluppo storico da un punto di vista della secolarizzazione come anche divisione del potere politico dalla questione religiosa prende il sopravvento e diventa fondamentalmente centrale e da qui infatti ci sarà la risposta cristiana al fatto che l'imperatore o gli imperatori in generale non potranno essere deificati ciao ciao Grazie.